A presiedere la giuria del campionato italiano della cucina per casalinghe e casalinghe all'hotel Du Parc di Atri, il maestro di cucina Santino Strizzi, oggi chitarrina in concerto e pappardelle al sugo di cinghiale preparati rispettivamente da Daria Seri e Anna Monaco, hanno vinto questi piatti la serata dedicata alla cucina tipica abruzzese. Ma cosa hanno avuto di più rispetto agli altri? Allora, in questo bellissimo ambiente di oggi abbiamo avuto delle stelle anche noi in cucina, si parla tanto di stellate, noi ce le abbiamo e sono stellate forte. Allora, il piatto della chitarrina è un piatto innovativo, l'altro invece è della tradizione classica che noi conosciamo. E a me è piaciuta molto, e così anche agli altri giurati, che ha tentato di fare un qualcosa di diverso da quello che si fa normalmente. La pasta era buonissima in qualsiasi modo, poi lei ci ha aggiunto anche un formaggio sui figli che tutti hanno apprezzato. Effettivamente è nuova questa concorrente perché non la conoscevo nessuno, però ha dato il meglio di sé già alla prima gara, quindi non so cosa farà in seguito. La giuria ha inoltre premiato il pollo alla pizzo ferratese, le sagne e ceci, la pasta alla trappetara e poi ancora l'inguina allo scoglio e sagna a pezzi al pomodoro. Che caratteristiche hanno avuto questi piatti? Allora, i piatti, anche per esempio la sagna a pezzi col pomodoro, la base, il pomodoro era fatto benissimo, il sugo. Mentre la pasta era un po' rotta e quindi purtroppo quando si perde un punto una parte, un punto un'altra, poi alla fine non riesce ad arrivare al primo premio. I piatti effettivamente la maggior parte erano fatti a regola d'arte, salvo alcuni che sono usciti, uno era un po' troppo crudo e un altro diciamo che era buono, però non era presentato a livello di concorso, ecco, era buono da mangiare a casa ma non è un concorso. Grazie.